la conduttrice ha raccontato la ripugnante verità ecco cosa successe a forum e cosa è stata costretta a fare rita dalla chiesa la ricordiamo tutti la carriera eccezionale di rita dalla chiesa quando era ancora alla conduzione di forum ad oggi è passato tanto tempo ma quella decisione rimase sempre un dubbio particolarmente forte nel pubblico perché rita aveva deciso di abbandonare tutto dopo il successo conquistato e il tifo da parte del pubblico per anni c'è stato solo un lungo silenzio il contratto mediaset venne stracciato ma la conduttrice venne accolta a braccia aperte sulla sette con urbano cairo lo switch però non fu molto conveniente per dalla chiesa perché dopo qualche tempo forum ha continuato a rimanere nelle mani di barbara palombelli e lei è rimasta senza nulla in mano dopo anni è stata lei a dichiarare cosa è successo e perché ha fatto la scelta di abbandonare mediaset in realtà si è scoperto che quella dio che suonava così strano al suo pubblico era un addio già programmato da chi per lei e una volta che la decisione era stata presa rita dalla chiesa ha potuto solo che a consentire sperando in la sette rita dalla chiesa la verità su forum e l'addio a quella carriera di successo non avrei mai lasciato forum il programma che conducevo da 30 anni né mediaset che è stata la mia casa ha dichiarato rita dalla chiesa ospite di monica setta nella puntata di storie di donne al vivio di qualche mese fa a fine stagione ricorda dalla chiesa si disse che forum poteva essere ridimensionato i contratti infatti sarebbero stati fatti solo per pochi mesi poi invece la situazione è evoluta in modo diverso nella tv si lavora a stagione con le produzioni seriali e non me la sentivo di lasciare a casa tanti miei collaboratori decisi di accettare la proposta di urbano cairo alla sette fu gentilissimo ma purtroppo poi il programma non decollò mai e intanto lei era fuori da forum definitivamente l'ex conduttrice di forum racconta la verità dell'addio al suo programma non riesco ancora a vederlo senza di me mi fa troppo male aveva dichiarato in un'intervista a tv sorrisi e canzoni rita dalla chiesa anni fa parlando di forum che nel frattempo era passato a barbara palombelli ormai da un anno la verità è che sono stata forzata a prendere una decisione che non avrei mai preso e diverse cose che io chiedevo da tempo come la diretta per esempio a barbara palombelli sono state concesse subito ha svelato al tempo dalla chiesa spiegando ai fan il perché di quel doloroso addio